Presidente Seracchiani, un impegno mantenuto questo sul nuovo ospedale di Pordenone? Sì, sono particolarmente soddisfatta del progetto che oggi abbiamo presentato. Quali sono le cose importanti? Intanto parliamo di un nuovo ospedale. È complesso perché si tratta di realizzare un cantiere in un luogo già molto urbanizzato, ma abbiamo lavorato molto sulla mobilità, sulla qualità dell'edificio, sul bassissimo impatto ambientale e anche sul fatto che deve integrarsi con il territorio. Devo dire che è venuto fuori davvero un ottimo lavoro, che mi piace ricordare è interamente coperto dal punto di vista finanziario e in secondo luogo sono tutti fondi regionali e in parte comunitari per quanto riguarda gli impianti tecnologici. Quindi stiamo rispettando tutti i tempi e andremo avanti esattamente come c'eravamo prefissi. Un ospedale tecnologicamente molto avanzato che rispetterà anche molto l'ambiente? Sì, addirittura c'è un abbattimento dell'emissione di CO2 del 31% e vengono mantenuti tutti i servizi, anzi vengono implementati in qualche modo i servizi e anche le disponibilità dell'ospedale. In più è stato curato, come ricordavo prima, anche l'impatto sui luoghi e quindi è particolarmente curato sia la zona parcheggi, sia la zona della logistica e anche degli ingressi, con un ingresso riservato per i pazienti dell'emergenza e con un ingresso evidentemente libero e più aperto per quanto riguarda i pazienti che devono fare solo prestazione ambulatoriale o andare a trovare i degenti.